I poliziotti del commissariato di Capodorlando hanno arrestato Biagio Salvatore Borgia, 35enne, e Francesco Galati Casmiro, 57 anni, entrambi di Militello Rosmarino, con l'accusa di trasporto e detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. I due, già noti alle forze dell'ordine, in particolare il Borgia, che ha precedenti specifici, sono stati fermati durante un controllo del pomeriggio di lunedì a Brollo dagli agenti orlandini e trovati in possesso di 15,20 grammi di cocaina purissima. Confezionata e nascosta all'interno del vano airbag dell'auto sulla quale viaggiavano. A seguito di perquisizione personale, inoltre, nelle tasche e nel portafogli del Borgia, sono stati trovati 470 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati arrestati e sottoposti ad udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Patti e Eugenio Aliquò, che ne ha convalidato l'arresto. Il GIP ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari soltanto per Salvatore Borgia. Il 35enne, difeso dall'avvocato Laura Todaro, è stato tra l'altro sorpreso alla guida nonostante gli fosse stata revocata la patente di guida e per lui è stato riconosciuto il pericolo di reiterare reati dello stesso tipo. Per Galati Casmiro, invece, difeso dagli avvocati Salvatore e Giuseppe Mancuso, non sono stati ritenuti sussistenti gli indizi di colpevolezza. Il 57enne è risultato infatti passeggero della vettura sottoposta a perquisizione e per questo è stato rimesso in libertà senza ulteriori obblighi. La cocaina rinvenuta e sequestrata dai poliziotti era purissima e quindi era destinata ad essere tagliata e immessa sul mercato per il quadruplo della quantità con un valore di resa di circa 6.000 euro.